Apprezzo anche gli uomini che negoziano e che liberano in nostra assenza. Grazie alla scienza con il virus ci conviviamo, ma proteggiamo quello che abbiamo riconquistato, anche con la prevenzione. Attenti soprattutto se abbiamo più di 60 anni o rientriamo in una categoria a rischio. Dai, impegniamoci tutti! La comunità nazionale italiana, con la migliore buona volontà, non può fisiologicamente, non può sopportare certe mutilazioni e certe perdite di sangue. Se proprio fosse vero che la mano, la vostra mano, è alzata per colpirci, fermatela! Grazie.